Onorevole Silvestroni per dichiararsi soddisfatto o meno. Presidente, guardi sottosegretario, non posso essere soddisfatto dalla sua relazione, anche se anche io mi associo a lei nella vicinanza a tutto il corpo delle forze dell'ordine e nella fattispecie dei Vigili del Fuoco. Lei ha fatto chiaramente un'ottima relazione per quello che è l'intervento di programmazione e gli investimenti, però la invito, o lei personalmente o eventualmente il Ministero che presiede, a rinnovare lo studio, perché probabilmente quello studio è uno studio vecchio. Perché il Tuscolano, così come Pomezia, non sono in grado per ormai la grande affluenza di autoveicoli e di cittadini che abitano un'area interessata come quella dei Castelli Romani, che va da Velletri, Artena all'Ariano e arriva fino ad Ariccia, Albano, Castel Gandolfo e così via, che è un'area che consiste in 300.000 abitanti. Non è un'area, dove prima ha fatto l'esempio, sono stati investiti per esempio gli olicotteri, benissimo, ma in quell'area per esempio non può essere usata. Quindi va fatta una ricerca, perché sono comuni che in realtà possono ridursi in 300.000 abitanti, ma in realtà in un unico comune, perché sono tutti entrambi confinanti, io le faccio presente, ci sono comuni all'area dei Castelli Romani, che sembra un paradosso, ma per esempio a Albano ci sono comuni che confina con Ariccia e c'è chi ha il salone nel comune di Albano e la cucina nel comune di Ariccia, quindi elicotteri in così alta densità abitativa è impossibile usarli. Se è stata fatta la richiesta di un'autoscala non viene dai cittadini, ma viene da quelle forze dell'ordine, nella fattispecie dei vigili urbani, che insistono in quell'area e che denunciano una carenza, da questo punto di vista, di un'autoscala, perché gli può servire per dover intervenire in casi sicuramente estremi. Faccio presente che Velletri, per quell'area, io l'ho messo anche nell'interrogazione, al di là del Tuscolano, che ripeto, se linea d'aria può essere vicina, ma in linea di comunicazione effettiva in realtà è lontanissima, così come Pomezia, Velletri potrebbe essere centrale per quell'area dei Castelli Romani a servizio, soprattutto in un momento come questo, di era di pandemia, di era Covid, dove potrebbe essere necessario, oltre a quelle che sono le perizie sulla staticità degli immobili, così come per problemi di alberature, ma può essere utile proprio in un periodo dove è impossibile. Noi sappiamo dai comunicati stampa che probabilmente ci potrebbe essere un lockdown totale ancora, e quindi avere anche a disposizione un corpo dei Vigili del Fuoco in un'area che, ripeto, insiste in 300.000 abitanti contigui può essere utile. Quindi la invito eventualmente a rivedere e a farsi promotore presso il Ministero che lei presiede di poter dotare la caserma e eventualmente il distaccamento di Velletri di un'autoscala. Grazie. La ringrazio.